Visto che le previsioni mettevano un pochino di turbolè, eccolo qua, il pizzicante, la macchina ce l'ho là, vado a prendere, state qui che vi faccio la foto esatto a bordo, ecco qua, ecco qua, un bel sorriso, ciacchete, eccolo qua, il pizzicante, è sempre pronta a intrattenere, far ballare le donne, ecco qua, bene, eccolo che arriva, il macho man della situazione, il fisico, qui c'è la competizione del fisico, lo strip man, strip man dalla Puglia, ecco qua, benissimo, perfetto, che si prepara, anche la Maria Rosa deve tuffarsi, vero? Si, 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 si tuffa a capofitto, e vai, benissimo, ed ecco qua ragazzi, abbiamo gli strip man, ecco qua, ristorante sul bacino, Pasqua a pranzo ragazzi, Pasqua a pranzo, il pizzicante, vai, hey, va a mollo, che coraggio ragazzi, guardate, guardate che roba, non teme il freddo dell'acqua, eccolo qua, altro fisicato, guardate che roba, benissimo, questi sono i veri, i veri fisici, guardate che roba ragazzi, vai, 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 tu sei pazzo, è pazzo, è pazzo, è pazzo, ragazzi, questo single è pazzo, è pazzo, è pazzo, è pazzo, questo single, questo è pazzo, è un single passo.